Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. È stata una mattinata di paura cortona per una forte esplosione all'interno di un casolare. Il tetto si è alzato e si è riappoggiato. Perché è una soletta di cemento armato, quindi a prova di bomba, ma nel ricadere sulle pareti perimetrali ne ha provocato poi anche lo spanciamento. Tragedia sfiorata alla fratta di Cortona dove si è verificata una forte esplosione in un'abitazione nella quale è rimasta ferita una donna incinta. È successo attorno a mezzogiorno, prima il boato, poi l'esplosione, le fiamme e la densa colonna di fumo. Da fuori ho visto, diciamo così, una nebbia, come una nuva. Poi quando siamo girati al vicolo ho visto bombieri, carabinieri. Sono arrivato qua e ho visto questo disastro. Ad esplodere una bombola di GPL utilizzata per alimentare una stufetta che al momento dell'accensione è deflagrata. Ha generato quello che avete visto. Il danno strutturale all'abitazione che è inagibile. Immediato l'allarme a seguito del quale sono accorsi sul posto oltre ai sanitari del 118, polizia, municipale, vigili del fuoco e carabinieri che stanno portando avanti tutti gli accertamenti per far chiarezza sulla vicenda. L'innesco che ha generato la deflagrazione del gas GPL ha poi dato, si è propagato con l'incendio, tutto il materiale combustibile che era nell'abitazione. La donna ferita a quarantenne al sesto mese di gravidanza è stata portata in ospedale fortunatamente con ustioni lievi sul 4% del corpo. Non si trovava infatti nella stanza dove c'è stato lo scoppio ma in un altro punto dell'abitazione. I lesi, il marito e la figlia salvi poi anche i vicini che vivono nell'altro appartamento in cui è diviso il casolare. Resta adesso ben visibile una profonda frattura sulla facciata e soprattutto una gran paura. GPL è un gas più pesante dell'aria, quindi il suo utilizzo deve essere fatto in ambienti areati a filo pavimento. Ci devono essere delle aperture che permettano l'evacuazione, altrimenti può miscelarsi con l'ossigeno nell'aria e creare una miscela che è nel campo anche dell'esplodibilità come abbiamo visto in questi casi. Torniamo adesso a parlare della baby gang famiglia Montana che aveva seminato il panico tra i giovani aretini. Adesso il leader della gang finirà a processo. Si faceva chiamare Montana in onore del protagonista del film Scarface e per mesi aveva seminato il panico tra i giovani aretini. È infatti accusato di associazione a delinquere finalizzata ad una serie di rapine ed aggressioni. Adesso il 3 per ventenne sarà processato. Nelle scorse settimane la Cassazione aveva detto no allo spostamento del procedimento in campo neutro, rigettando la questione di incompatibilità. Questa mattina il gruppo Stefano Guascone lo ha rinviato a giudizio. Il dibattimento inizierà il 17 gennaio 2023. Il 3 per finito in manette nel marzo 2022, secondo gli inquirenti, sarebbe stato alla guida del gruppo dei giovani sui quali pendono accuse pesantissime. Per gli altri membri della baby gang, tutti under 18, procede il tribunale dei minori di Firenze. Mentre un altro giovane, all'epoca dei fatti già maggiorenne, è comparso anche lui al palazzo di giustizia Eretino. Ha chiesto la messa in prova ed il giudice ha accolto la richiesta. Verrà deciso all'esito dell'elaborazione del programma dal parte dell'UEPE. Dovrebbe avvenire entro il 31 gennaio. A quel punto il giudice poi valuterà se effettivamente ammetterlo per quanto tempo. Chiaramente c'è il fantasma del passato e la necessità di cambiare vita. Presente in aula anche una delle giovani vittime della baby gang minacciata lo scorso dicembre, proprio da Montana, nel centro di Arezzo. Colpirmi con un corpo contundente, un paletto di ferro per esattezza. Successivamente si è fermata una coppia di signori ad aiutarmi, a venirmi in aiuto. E ha detto guarda che se continui così ti rovini la vita, non fare una cosa sbagliata. E lui ha detto che la sua vita era già rovinata. Io spero che da questo processo ci sia una parte dove c'è, si parla proprio di giustizia. Ancora cronaca giudiziaria, il procedimento penale contro Francesco Macri per rapeculato è stato archiviato. I fatti risalgono circa due anni fa, quando scattò l'accusa nei suoi confronti, all'epoca era presidente di Estra. L'atto di archiviazione è stato notificato all'avvocato di Macri dallo stesso PM Roberto Rossi. Soddisfatto, Francesco Macri, come ho sempre sostenuto, ha dichiarato con questa archiviazione e si conferma l'onestà della mia condotta come presidente di Estra. Adesso si resta in fiduciosa attesa, conclude per quanto riguarda il processo in corso. Sarà invece affidata ad un ricorso al Consiglio di Stato alla vicenda pendente sulla sua nomina presidente Estra, contestata da Anacca per il quale Macri chiede che venga riconosciuta come legittima. Voltiamo pagina, ancora maltempo in Toscana, almeno fino a domani mattina. La sala operativa della protezione civile regionale è infatti esteso alle 12 di mercoledì 7 dicembre. Il codice giallo per rischio idrogeologico genato è che era valido fino alle 20 di stasera, interessata tutta la regione ad eccezione delle aree settentrionali. Cambiamo argomento per parlare di sanità. Mentre la situazione Covid lentamente perde forza nella sua manifestazione clinica, prendi in via la campagna di sensibilizzazione del Ministero della Salute, la sindrome influenzale Bussin anticipa le porte anche di molti aretini. Nell'era pre-Covid l'influenza faceva la sua comparsa tradizionalmente da dicembre. Oggi invece si registra una manifestazione anticipata dei sintomi. A confermare questa importante diffusione è il dottor Renato Tulino, direttore del Dipartimento di Medicina Generale della ASL Toscana Sud-Est. Confermo, dice che nel 2022 la sindrome influenzale è apparsa prima rispetto agli anni di Covid e anche a quello precedente. Da una considerazione generale, a partire da metà novembre, nella nostra azienda sanitaria si stima che circa il 38% in più di pazienti con disturbi stagionali sia da ricondurre all'influenza. I soggetti maggiormente colpiti sono i malati cronici, con malattie respiratorie importanti, diabete, cardiopatie, quindi già con difese immunitarie indebolite, e i bambini, portatori inconsapevoli del virus dal contesto scolastico, mentre l'influenza incide meno sugli anziani già protetti dal vaccino. È sconsigliato però ricorrere subito alla terapia antibiotica, in linea con l'attenzione al tema dell'antibiotico resistenza a livello nazionale e mondiale, afferma Tulino, mi preme ricordare che la febbre è una reazione naturale di difesa dell'organismo che consente lo sviluppo degli anticorpi. La terapia antibiotica, pertanto, è consigliata solo in un secondo momento dal decorso influenzale. L'automedicazione o affidarsi, peggio ancora, a internet per trovare risposte di salute non è mai un bene, anzi potrebbe causare ulteriori problemi. In questi casi è sempre auspicabile chiamare una volta in più il proprio medico piuttosto che affidarsi al sentito dire. Ci spostiamo in Casentino, ad Ortignano Raggiolo, che è il primo comune toscano che ha realizzato e terminato le opere finanziate con i fondi PNRR. È un comune del territorio aretino ed in particolare Ortignano Raggiolo. Ci troviamo in Alto Casentino ad aver completato per primo in Toscana opere con i fondi del PNRR. Si tratta di viabilità. Abbiamo fatto una spesa di circa 130 mila euro totali. Abbiamo completato dei lavori su una via che porta al centro storico del capoluogo. Questa via funziona da alternativa per la via principale, sia in caso di necessità, ma anche è utile per realizzare dei lavori che ha bisogno la via principale di accesso al borgo di Ortignano. L'altra invece è una via che porta al nucleo di Uzzano. È un nucleo abbastanza importante storicamente perché il fatto di risistemare questa strada fa sì che, oltre a ridurre per noi i costi di manutenzione, fa anche contente queste persone che si spera vengano ad abitare qui nella nostra valle. Ecco, immagino che uno dei motivi principali per cui è stato detto sì a questo finanziamento è proprio evitare lo spopolamento di queste montagne che sono bellissime, ma comunque hanno dei disagi appunto anche per la viabilità e non solo. Sì, noi sempre sul piano del PNRR abbiamo presentato un progetto, in collaborazione con il Comune di Giussi della Verna che riguarda la rigenerazione dei borghi. avremo circa un milione di euro da spendere proprio a questo fine per migliorare sia la vivibilità urbana ma anche sociale nei nostri borghi, in particolare nel Borgo del Raggiolo che fa parte dei borghi più belli d'Italia. Poi avevamo l'esigenza di spostare il nostro asilo nido e quindi anche lì abbiamo presentato un progetto per portare da una zona oggi in pericolosità idraulica alta a spostare l'asilo nido in una zona a pericolosità idraulica media. Questa è un po' una sorta di inversione di marcia rispetto invece allo spopolamento di queste zone. Quanto la vedete vicino? Ma diciamo che ultimamente alcuni obiettivi si sono raggiunti e quindi anche cercando di sfruttare questi fondi io vedo che insomma il nostro Comune comincia ad essere abbastanza appetibile. Poi è una valle in cui si vive bene, ci sono tante attività, paesi importanti insomma come il Raggiolo che è uno dei borghi più belli d'Italia e quindi insomma speriamo che l'obiettivo insomma si concretizzi. Pubblicato anche il decreto dirigenziale della Regione Toscana che approva le graduatorie dei progetti ammessi al finanziamento del Fondo Regionale della Montagna e assegna una prima parte delle risorse agli enti beneficiari in provincia di Arezzo 780 mila euro su una totale di 2 milioni, 400 mila per le unioni dei comuni e 380 mila per gli enti che hanno presentato progetti. Ad annunciarlo è stato Vincenzo Ciccarelli questo pomeriggio capogruppo regionale PD e membro della Commissione Aree Interne. Adesso invece andiamo a Cittadella della Pace dove nei giorni scorsi c'è stata la prima visita del nuovo Vescovo Andrea Migliavacca. È stato un momento che porterò nel cuore così il Vescovo di Arezzo Cortone Sansepolcro Monsignor Andrea Migliavacca dopo l'incontro con i giovani italiani ed internazionali che si formano per diventare cittadini attivi e ambasciatori di pace. È infatti trascorsa una settimana dal suo insediamento e il nuovo Vescovo ha deciso di incontrare da vicino l'associazione di rondine Cittadella della Pace. Ad accompagnarlo nei luoghi simbolo della cittadella i giovani della World House, ragazzi provenienti da luoghi di guerra che accolgono la sfida di convivere con il nemico e formarsi come futuri leader ed ambasciatori di pace. Dal monumento delle rondini che traccia le radici spirituali della cittadella all'ingresso dell'Arena di Gianin con le iconiche parole di Liliana Segre fino alla scuola dove ha salutato i ragazzi del quarto anno rondine liceali di tutta Italia che hanno l'opportunità di trascorrere un anno nella scuola della Cittadella della Pace. Ad accogliere Monsignor Migliavacca anche i partecipanti alla seconda edizione del progetto Mediterraneo Frontiera di Pace che dopo un anno a rondine torneranno nelle loro comunità per sviluppare progetti d'impatto nei loro territori e rafforzare il network di giovani di tutto il Mediterraneo che lavorano per la coesione sociale. Ciò che si vede qui non è solo frutto di programmazioni o strategia ma intuizioni che condividendole si realizzano e ci portano dentro un progetto. Ha concluso il Vescovo Migliavacca. La crisi economica su cui grava anche il rincaro dei beni di consumo a partire da quelli cosiddetti essenziali finisce inevitabilmente per condizionare in modo negativo anche la soddisfazione dei bisogni culturali. Per questo la Biblioteca di Arezzo si è fatta venire in mente un'idea per contrastare queste criticità e facilitare l'acquisto di libri. Quindi oltre al servizio di prestito ha deciso di promuovere una campagna di vendita di libri al costo di mero rimborso, ovvero un euro. I libri in vendita dalla prima al 30 dicembre sono riposti in apposite ceste e tavoli allestiti presso il front office della Biblioteca Adulti e della sezione Ragazzi. Alla Casa dell'Energia invece una mostra per riflettere sulla violenza di genere. Le tre donne nel non vedo, non sento e non parlo praticamente sono come tre sorelle che vorrebbero tirar fuori dei sentimenti repressi e tutto questo, per tutti questi sentimenti, vengono racchiusi all'interno di un unico cuore che diventa il nido delle loro emozioni. Il linguaggio dell'arte per riflettere sulla violenza di genere. Anche quest'anno l'Unione Italiana Cechia di Povedenti in collaborazione con la sezione territoriale di Arezzo ha voluto lanciare una riflessione sulla violenza nei confronti delle donne con disabilità. Sappiamo che queste donne vivono una situazione già difficile e in più molte volte sono oggetto di angherie e di violenze. Quindi questa mostra nel filone contro la violenza sulle donne qui a Casa dell'Energia è una mostra emblematica. In particolare il quadro, appunto il cuore delle donne fatto dall'artista, dalla Silvia che tra l'altro ormai adorna i nostri locali in maniera consueta con la bellezza della sua tecnica è ancora più pregnante. Alla Casa dell'Energia la mostra Io sono una, io sono tutte, ma è più ai margini. Un'esposizione realizzata con l'impiego di materiali preziosi e polveri lucenti totalmente accessibile finalizzata principalmente a dare risalto al tema della violenza di genere e al suo superamento. Io utilizzo tecniche particolari antiche che si rifanno alla scuola toscana del 1300 in particolare Cennino Cennini che è stato un pittore vissuto intorno al 1370, allievo di Giotto che scrisse un manuale d'arte. In questo manuale d'arte io sono riuscita in circa 20 anni di ricerca e studio a tirar fuori tutti gli antichi ricettari utilizzati a cavallo tra il XIV e il XV secolo. Una serata di musiche e beneficenza al Principe di Arezzo Musica anni 70, 80 e 90 per una serata dedicata al calcit l'appuntamento è per giovedì 8 dicembre alla discoteca Il Principe di Arezzo. Prenotate perché sarà sicuramente una bella serata con quattro band di aretine che ve le presento prima i Quermen, i Quesa che poi aretino non è sono di Cortona però fa sempre parte del nostro gruppo i Trilemma e i Impressionati sono quattro gruppi che abbiamo scelto per questo posto per il Principe. Quattro gruppi che rappresentano la storia della musica aretina. Esatto, ci fa molto piacere venire al Principe ringrazio tutto lo staff del Principe che ci ha accolto perché questi gruppi negli anni 60-70 sono uno che ha il Principe. Ancora una volta tanta solidarietà nei confronti del calcio? Le band hanno iniziato con questo obiettivo aiutare il calcio in particolare per il servizio scudo perciò siamo contenti siamo anche in un momento di Natale dove passeremo sicuramente una bella serata in distensione e ovviamente pensando anche che possiamo aiutare qualcuno che si trova in difficoltà. Possiamo aiutare il servizio scudo? Sì, questo è un servizio molto apprezzato ad Arezzo che interviene in un momento critico nella vita di un paziente ma anche è di supporto alla famiglia. Ancora ci sono deposti a disposizione come fare a prenotarsi? Per prenotarsi potete chiamare il 348 8522313 il Gigi io vorrei ricordare anche che saranno presenti in una scuola di ballo che è la Dream Dance faranno anche loro il loro movimento di spettacolo tutto questo grazie al Calcit come sempre come Sassoli appunto ha detto poco fa e grazie ai gruppi della Città della Musica questa nostra associazione che raggruppa tanti ex suonatori e che hanno fatto innamorare tante persone tanti genitori che in questo momento magari ci stanno ascoltando quindi vi aspettiamo giovedì e chiamate Gigi al 348 8522313 Passiamo alla pagina dello sport a un nuovo turno infrasettimanale per l'Ame Scuola Baschi e Tarezzo che mercoledì 7 dicembre alle 21 ospiterà al Palasportestra la Stosa Virtus Siena questa partita è valida per i quarti di finale della Coppa Toscana Trofeo Piperno la vincente di questa sfida in una gara unica si qualificherà per la finale Final Four che si disputerà nella prima settimana di gennaio l'Amenzi ha conquistato l'accesso a questa sfida vincendo il girone H di qualificazione appuntamento e dunque per mercoledì alle 21 al Palasportestra questa per stasera era l'ultima notizia vi ringrazio per l'attenzione arrivederci a questa sfida